Igor da Milano in diretta da Milano intrattenimento a 360 gradi per due ore di puro divertimento lo so, lo so, buon pomeriggio a tutti ah, senti, senti la musica come parte allora intanto 338-61-160-60 si non è una musica, è musica burlesca tranquilli, non agitatevi allora potete mandarci un whatsapp oppure anche telegram quello che volete, non c'è nessun problema aspetta, vedo che c'è, vedi che no, di qua, di qua ogni tanto, vedi che devo fare così ecco, vabbè, chi mi guarda in cam sembra che sono un pazzo scatenato sì, lo sono, allora siamo in diretta anche su Facebook YouTube e Twitter in questo momento oggi però puntata particolare perché ha beccato un ospite che penso che sia la prima volta che sia venuta qua mi sembra proprio la prima volta vi faccio solo sentire però adesso la voce buonasera ospite buonasera a te carissimo oh, bene, 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 ve la faccio vedere subito allora intanto benvenuta, eccoci qua Radio Punto Zero insomma, Lorella Frego che in poche parole tu logicamente madre di proprio slovena al 110% potremmo definirti o il 100% o il 110%, mettiamo 110% ecco, 110%, logicamente lei lavora in tv, radio anche lei veramente 110 all'ora, social insomma di tutto, di più però in qualche modo tutto come è partito io voglio sapere un po' come è partita la tua avventura come ti sei trovata a un certo punto della tua vita dire ok, sono davanti alla telecamera oppure davanti al microfono ah, ti spiego è stata un'avventura in realtà casuale anche se io dico le casualità nella vita ormai non ci sono più però io avevo 16 anni e stavo passeggiando nei dintorni del ginnasio di Capodistria e tricchete tracchete incontro il redattore capo del programma italiano di tv Capodistria di allora che mi dice, mi ferma, non conoscendomi mi dice, senti, noi dobbiamo fare un nuovo programma stavo cercando delle ragazze che vengano a darci una mano verresti a fare questo casting e io un po' allibita, devo dire la verità sono tornata a casa, ne ho parlato con mia mamma e mamma mi dice, ma perché no? puoi andare a provare poi magari se ti prendono è anche un po' un'indipendenza economica ti potresti divertire e via dicendo sono andata a questo casting mi hanno presa e non me ne sono più andata per farla breve ma scusami ma è un po' la storia la stile sogno americano se quando ti dicono che in America c'è questa cosa e quando passeggi c'è qualcuno che ti guarda e dice, ma vorresti fare un modello vorresti fare questa cosa qua tu hai avuto un po' l'intuito e anche la grande fortuna di avere un talento altrimenti non saresti qua ancora oggi sai cos'è la cosa particolare? che non avrei mai pensato di fare televisione, radio o di fare le cose che faccio oggi avevo da bambina o da ragazzina sogni completamente diversi dal fatto di fare la maestra poi la veterinaria poi volevo fare lo stess di volo quindi figurati nulla a che fare con la televisione però effettivamente la vita a volte ti fa incontrare con delle situazioni che poi aprono diciamo così delle porte che magari da solo non avresti neppure visto non avresti preso in considerazione c'era una cosa però che era radicata diciamo così nella mia mente causa papà che da Bologna lui faceva il pendolare per 15 anni e da Bologna mi portava ogni mese un giornale che oggi non esiste più che si chiamava Moda questo giornale era un giornale molto particolare perché ti faceva un po' immergere in questo mondo molto spettacolare colorato pieno di creatività della moda ti faceva vedere queste grandi modelle sai poi gli anni 90 Cindy Crawford Claudia Schiffer le belle le donne belle e io guardavo lì quelle pagine e dicevo ma però a me piacerebbe fare qualcosa che abbia a che fare con la moda mai pensato né di far la modella né di far non solo la designer ma ho pensato qualcosa con la moda sì e quando sono entrata in televisione una delle prime cose alle quali ho pensato è ok io ho iniziato con un programma sportivo con il mitico Sergio Taucher al quale sarò veramente per sempre grata ma ho sempre saputo che in realtà lo sport non era il mio settore ho pensato a me piacerebbe fare qualcosa con la moda da lì poi è entrato diciamo c'è stata questa possibilità di iniziare un programma televisivo di moda e vedi poi ho continuato sulla mia strada però adesso logicamente per chi adesso sta guardando o ci sta ascoltando Lorela è come un personaggio come nella nostra televisione italiana quindi un personaggio pubblico però invece di essere in Italia un personaggio pubblico in Slovenia com'è questa cosa? come la vivi? cioè quando vai in giro? perché non so ti vedo come la Unziker che quando vai in giro posti qualcosa subito arrivano guarda in Slovenia diciamo che lo star system praticamente non esiste non è come l'Italia la Slovenia è molto piccola siamo in due milioni per cui la cosa è molto più tranquilla nel senso vado ogni giorno a fare la spesa mi riconoscono si mi salutano mi dicono ho visto la trasmissione oppure ho visto questo ho visto quell'altro ma c'è sempre tanta gentilezza non ce lo stalking per dirlo così tranquillamente quindi riesci a farti una vita assolutamente normale ovvio che sei più esposto a dove vai cosa fai cosa pensi se dici qualcosa se scrivi qualcosa viene quasi immediatamente diciamo così reso pubblico però è una vita tranquilla non è una vita che porta a tantissimi scompensi assolutamente no c'è stata una curiosità nel tuo nel tuo proprio a oggi c'è stato un momento che hai detto mamma mia come ne esco cosa faccio cosa farà la persona non solo ospite qualcosa che ti sei proprio trovata a dire adesso il piano B vado via scappo lascio tutti qua mi gira e vado via guarda ci sono stati diciamo un momento del quale io ho pensato adesso basta non ne vale più la pena era il momento che aspettavo mia figlia che ero incinta c'era una curiosità mediatica morbosa riguardo questo mio panciore che cresceva e c'era e sai il discorso facciamo le foto facciamo le foto incinta facciamo le foto al bambino facciamo le foto qua facciamo le foto là io ero molto stufa di questo anche perché super suscettibile causa ormonale in quel momento là quindi quello è stato un momento che non l'ho vissuta ecco esattamente bene ma ci vuole sempre una sana intelligenza per mettere una specie di confine tra quello che è la tua vita pubblica e la tua vita privata quello impari a farlo poi con l'età io ho iniziato molto giovane a 16 anni quindi devo dire che sono cresciuta super rapidamente certe cose poi le ho imparate per strada e altri momenti sono magari quando sai hai ospiti in studio così come tu hai me oggi allora certe volte magari chiami qualcuno che dici ok questa persona mi ispira lo chiamo viene fa la trasmissione poi quando viene non è quello che tu avevi percepito al telefono oppure via mail e ti ritrovi magari con un ospite che dal punto di vista proprio energetico non ti dà uno scambio diciamo verbale che ti dia delle soddisfazioni grandi cioè nel senso si tira la conversazione non arriva mai alla fine allora dici madonna quando finisce questa cosa è una tortura un'agonia capita per fortuna poche volte perché penso che in realtà tutti noi presentatori siamo un po' anche intuitivi quando vai a cercare l'ospite più o meno trovi la persona che dice ok questo però mi fa la trasmissione questo è molto importante quindi tendenzialmente sono tutti super ogni tanto capita qualcuno che tanto super non è ma domanda c'è una specie di festival di Sanremo in Slovenia sai che è una cosa che mi sono chiesto quando è finito del festival di Sanremo ma anche anzi poi ti chiederò anche dell'Eurovision quindi se anche voi partecipate mi sembra l'Eurovision certo io l'anno scorso ho dato i voti ai Maneskin vogliamo parlarne sono stata io quella che ha dato i voti è stata tu e lei che ha dato i voti ragazzi ha dato i voti ha dato i voti nel senso tutti voi anche è andata alla Santa Sede ha dato i voti esatto c'è anche il Papa però in Slovenia c'è qualcosa che fa un contest così importante allora noi abbiamo questo festival che si svolge sul litorale a luglio che si chiama Melodie del mare e del sole che è un festival relativamente grande molto spesso paragonato a Sanremo che nei tempi d'oro durava anche più giorni adesso purtroppo una o due giornate punto e basta ti spiego perché perché la Slovenia essendo piccola non ha questo gran numero di cantanti o di personaggi super bravi che possono magari essere in grado di salire su un palcoscenico e affrontare una gara canora ce ne sono parecchi ma non tantissimi quindi alla fine viene tutto ridotto a una serata ma sempre paragonato a Sanremo forse perché è l'unico festival di musica che si svolge sul litorale tutte le cose più o meno da noi si svolgono a Ljubljana che poi è molto centralizzata da questo punto di vista la Slovenia c'è l'autoporto lì quindi uno arriva tutto vicino esatto è tutto là quindi c'è questo festival che è appunto un festival canoro che si svolge d'estate ed è paragonato a Sanremo nel senso nel nostro piccolo perché nessuno non pensa ovviamente di essere uguale a una cosa gigante come Sanremo l'Eurovisione invece è un progetto super importante per gli sloveni anche perché partecipano così come partecipa l'Italia da qualche anno a questa parte e anche noi abbiamo avuto questa serie di festival musicali che si chiamano Ema da noi attraverso i quali viene poi selezionato il cantante che va all'Eurovision che è stato selezionato da poco tra l'altro questo gruppo di ragazzi giovanissimi che a maggio poi vanno a Torino e niente parteciperanno vediamo andrai? no perché devo dare i voti anche quest'anno da voi che ho capito quindi devo starmene in studio che questa cosa è super interessante perché magari sì nel senso che tu sei in onda a livello europeo mondiale per 30 secondi più o meno e noi abbiamo tre giorni di prove per quei 30 secondi è una cosa allucinante se sbagli ti uccidono se sbagli ti uccidono ti uccidono così subito fatta piatta e dici ma in inglese devi parlare devi parlare in inglese è in inglese perché appunto è una cosa internazionale poi non devi dire nulla fuori da determinate frasi fuori dalle righe non devi fare il pazzo furioso quindi secondo me chiamano noi perché gli dicono questo è calma quindi non ci sono sorprese e poi non si sa mai c'è stato invece un personaggio che non sono sorprese ma così che ti è passato un personaggio famoso che ti è passato e ti ha detto mamma mia che personaggio che ti sei resa conto forse anche dopo dopo aver intervistato chiacchierato guarda io sono una super fan di John Bon Jovi che tra l'altro questa settimana ha fatto 60 anni quindi auguri a John e il mio futuro marito sì ma 60 anni se quando dici 60 anni mamma mia per me è uguale come quando ne aveva 20 solo che ha tolto gli orecchini ma sempre lui è per te è lui per me è lui no e devo dire che io sono stata spesso e volentieri ai suoi concerti e così trovandomi anche nel backstage ho avuto questa fortuna di poter vivere da vicino questa macchina gigante che è il gruppo di per sé ma non solo loro anche altri poi quando tu vedi quando il successo di una persona e anche il successo di un concerto dipende da 130 persone che lavorano dietro è un macchinario incredibile ho sempre pensato che se non fossi mamma e se avessi anche qualche anno di meno una cosa che ad esempio mi piacerebbe fare è andare in tourney con uno di questi gruppi super grandi e stare lì per un anno a seguire proprio tutto questo percorso questo discorso che loro hanno anche molti palchi a disposizione non è solo un palcoscenico che si sposta uno monta lì l'altro viene montato già nella prossima città insomma esatto e poi c'è quello che ha detto ai chiodi quell'altro che ha detto a vedere che le assi siano tutte dritte perché lui non deve inciampare quel terzo che fa il microfono quel quarto le telecamere telecomandate tra l'altro a distanza quindi poca gente anche sul palcoscenico la sicurezza e via dicendo è un meccanismo che ti fa entrare in un mondo un po' parallelo dove tu dici ma è possibile che esistano tutte queste cose è possibile che sia effettivamente così sai cosa mi ha affascinato da personaggio televisivo mi ha affascinato il fatto che ognuno sa il lavoro che deve fare ognuno conosce esattamente le regole e ognuno porta a termine quello che è il suo compito e questo è un discorso che quando tiri le somme dici alla fine quando tu hai un'equipe che lavora per te che lavora bene il risultato è al cento per cento è una cosa che mi ha molto affascinato e che spesso e volentieri va a mancare nel mio lavoro perché sai io lavoro per una televisione statale quindi ci sono tantissimi diritti e pochi doveri purtroppo è così e di conseguenza tante volte sai questo io 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 è troppo poco noi perché alla fine è l'equipe che conta non solo la persona che sta davanti alla telecamera non è facile è logico che quando ti trovi un John Bon Jovi come può essere può essere stato Michael Jackson e tanti altri insomma anche giovanotti stesso quando vai lì ci sono tre quattrocento persone che fanno il lavoro e tu non è che devi andare a dire tu scusa stai facendo no è una macchina talmente oliata che ognuno fa il suo ruolo logico per l'amore di Dio ci può scappare però sono quelle cose che nessuno noterà noterà chi è nel settore o chi è che era responsabile di quella cosa lì però tutto il resto il meccanismo gira veramente togliato vedi adesso gli Eurovision come hai detto tu tre giorni di prove per tante secondi io mi immagino anche Sanremo guarda infatti loro arrivano tre settimane prima tre settimane prima fa le prove insomma tutto di più però adesso noi già andiamo un attimo in pubblicità poi torniamo perché andremo a chiedere ancora altre cose un po' non dico piccanti però così cosa succede cosa succede cosa ti è capitato insomma tutte le cose che possono capitare quando tu presenti che arrivi a un certo punto è la memoria ciao ti saluta ok quindi tra poco sempre qui Radio.zero fermi lì fermi tutti fermi tutti che torniamo subito ti aspetti partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef chiacciola radio.zero.it a Grazie a tutti. 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 No. 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 Mi è capitato anche quello. No. Tu ti aspetti che dici, adesso ti faccio la domanda bellissima, quindi tu fai tutto un prologo di quelli giusti dicendoti, non so, Lorela tu mi racconterai quello che è, potete fare. E tu? Grazie a tutti. E' un'ubriaca. lo sa, dice vabbè ma tanto è andato tutto bene, ha fatto tutto a posto, cioè lei si è divertita, ha fatto le sue domande, come dici tu, è arrivata lì, mi sono emozionata, tutti sapevano che tu stavi per morire lì per terra con l'acqua alla gola, ed è una cosa particolarissima questa, anche le persone, perché tante volte, io ho visto anche quegli spavaldi, come dici tu prima, arriva quello spavaldi, ma non c'è un problema, tu chiedimi quello che vuoi, poi chiedi e parte, poi quando vede che c'è qualcosa che sta, non si rende conto che siamo in diretto, si rende conto che siamo insomma tra i social, tra la radio, la tv, si blocca, e l'era lì ti viene un attimo un senso come d'angoscia, tu come hai mai avuto un momento tuo, oppure tu ogni volta che sali, che vai su un palco, che vai in tv, che c'è andata le camera, che vedi la lucetta rossa che dice che tocca a te, c'hai un po' di strizzetta? Ma io la strizzetta sempre, ho sempre pensato che il momento che questa strizzetta se ne andrà per le sue, io cambierò lavoro, nel senso che no, ci deve essere quella dose di adrenalina, no? Anch'io in questo momento che sto parlando con te, è una conversazione super leggera, però comunque mi interessa insomma che vada bene, per cui c'è sempre una dose di preoccupazione, andrà tutto bene, sarà tutto ok, farò la mia bella figura, o meno ce la faremo, non ce la faremo. Rimane sempre questa adrenalina di sottofondo ed è giusto che sia così. Io penso che tutte le persone del mondo dello spettacolo che lavorano, o televisione, o radio, cinema, teatro e via dicendo, in realtà siano un po' dipendenti da questa dose di adrenalina, no? Che quando c'è è super bella perché ti tiene molto gasato, quando se ne va ti rende anche un po' triste, un po' malinconico. Non a caso io ho lavorato ad esempio al Casino Perla con tantissimi comici italiani, anche comici di Zedig, di traduzioni importanti e via dicendo, che sul palco erano super divertenti che piangevi dal ridere. E fuori, no. Nel backstage erano persone molto tristi, anche chiuse in se stesse, che erano molto difficili da approcciare proprio e c'è questa, come dire, questa disarmonia, no? Tra questa super felicità e questa dose di tristezza o di malinconia che però ti crea una specie di magia sul palco. Penso che tutti abbiano, gli artisti, no? In realtà tutti hanno una sorta di lato un pochino triste, malinconico, fa parte della loro essenza, del loro carisma. Mi piace, questa cosa mi piace. Intanto devi ricordare a quando c'è il tuo programma in tv, tutte le cose che fai, così almeno ti segui, anche i social, il sito, tutto. Intanto dillo, ricordicelo. Te lo dico? Sì, dimelo. Allora, io a TV Capodisti ho una trasmissione che si chiama Il Giardino dei Sogni, che va in onda ogni martedì alle 8 di sera. È una trasmissione un po' di moda, lifestyle, ma ci sono anche tanti psicologi che vengono da me, ospiti di vario tipo, per cui è un po' una trasmissione di intrattenimento, ma anche culturale. Poi per quel che riguarda Slovenia 1, invece sul primo programma della TV nazionale ho questa trasmissione che si chiama Sovotno Popoudne, che vuol dire il sabato pomeriggio, che va in onda dalle 5 e mezza alle 7 del pomeriggio per l'appunto, anche di lifestyle, quindi parliamo di moda, di automobili, di cose belle, di come vivere bene. Cerchiamo insomma di dare alle persone una sorta di infarinatura super positiva in tempi che purtroppo sono negativi e penso che proprio in tempi difficili bisogna parlare di cose belle perché sono super essenziali. Poi sono ovviamente super attiva anche sul web, ho tre pagine, internet un è in italiano, un è in sloveno, un è in inglese, quindi mi trovano dappertutto. Voi cercate l'Orella Fuego, invio su Google, se siete in Italia vi becca in italiano, se siete in sloveno, se siete in America vi becca in inglese, se siete al mare e vi dice ciao. Ciao, l'Orella e le vacanze. Ciao, buone vacanze. Allora, detto l'Orella, niente, io ti ringrazio tantissimo perché è un mondo che io starei a parlare ore, 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 ore. Ma ora perché poi è bello scoprire un po', fare chi ci sta ascoltando, no? Questa fusione, a me piace la fusione tra noi, che siamo vicini, che siamo qua a un passo che tante volte non conosciamo, no? La cultura, i cibi, anzi, poi ti chiederò anche una cosa, sai che noi abbiamo un programma che si chiama Radio Chef ed è ogni giovedì, infatti oggi, alle mezzogiorno e venti, è partito questo programma, dove facciamo le ricette. Adesso ti dirò di mandarci una mail con la tua ricetta. Oh, io cucino un sacco, quindi te la mando più tu. Adesso te la manderemo anche due, anche le tue amiche, tutti così, anche perché così abbiamo i nesti in Slovenia, che ci abbiamo qua vicino, che insomma, è bello, anzi, se vuoi ricordarlo, ricordalo, insomma, quando vai in tv, dici, se volete, andate da Igor, da Milano, da Igor Ismilan, Ismilano, così dici, Ismilana, Ismilana, scusa, Ismilana, Ismilano, oh ma che dici, chi è questo? Intanto niente, grazie veramente tanto e alla prossima puntata, sperando di averti veramente di, non so, prima dell'estate, così facciamo un appuntato sulla moda. Oh, più che volentieri, sono appena tornata da Milano, quindi ne voglia. Oppure, oppure se vuoi, moda, o puoi scegliere anche, adesso faccio, nel mercoledì faccio un programma sugli sposi. Sugli sposi? E cosa diciamo degli sposi? Faccio tutte le cose perché, sai che io faccio animatore, no? Quindi racconto tutte le aneddote, le cose, non di nome e cognome, però racconto quello che succede, racconto un po' cosa succede, abbiamo anche vari ospiti e quindi racconto un po' quello che capita, però dai, facciamo così, vi racconteremo più ma della moda, quindi l'estate, ti preparerò per l'estate, per arrivare così, arriviamo all'estate giusti, il cuore giusto, con le ciabattine giuste, con il look giusto. Bene, io ci sto, grazie a tutti. Grazie mille, grazie mille, voi rimanete sempre con noi, Radio Punto Zero, 338, 61, 6060, Igor da Milano, mi raccomando, domani è in solita ora, pomeriggio, abbiamo un'altra puntata, altri ospiti, altre cose, insomma, domani, domani, ciao, 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 ciao! Grazie a tutti.